Assessore Pepe, questo progetto con l'Amadori, progetto del pollo campese, rappresenta un'importante opportunità di investimento per l'Abruzzo. Con le risorse strutturali anche del piano di sviluppo rurale possiamo dare un'opportunità importante sia ai giovani che vogliono insediarsi in agricoltura, sia a tante aziende agricole che possono sviluppare ulteriormente le proprie attività. L'Amadori punta fortemente ancora ad investire nella nostra regione. Torniamo ad investire in Abruzzo dove siamo arrivati negli anni 80, abbiamo realizzato il secondo pollo industriale più grande della nostra azienda e oggi vogliamo lanciare il progetto dei polli allevati all'aperto, quindi del nostro campese, quindi un'opportunità per tutti gli abruzzesi, tutti coloro che sono agricoltori e che vogliono diventare anche allevatori e questa è una grande opportunità di crescita per il territorio abruzzese. Un progetto importante che può beneficiare anche di fondi regionali. Certamente rappresenterà un'opportunità anche per i giovani che vogliono diventare imprenditori in Abruzzo. Un progetto importante che sarebbe da esportare e da imitare con altri simili probabilmente. Sicuramente questo è un progetto di filiera che noi possiamo copiare anche per altri settori e parlo agli altri settori dell'economia agricola regionale. Grazie. Grazie.